È un pezzo del futuro del Pescara perché sono intanto giocatori giovani, giocatori di grande qualità e i giocatori ci possono assicurare almeno i prossimi anni. Poi si sa che questo è un mondo dove se questi giovani di qualità fanno bene hanno altre ambizioni però intanto abbiamo gettato le basi per il prossimo anno per ripartire in qualsiasi categoria uno si possa trovare con un gruppo già di qualità. Ecco, molti tifosi dicono però il presidente va a caccia di plus valenze e quant'altro. Lei cosa si sente di ribattere? Ma io non devo ribattere nulla perché purtroppo il calcio è bello anche per questo e che tutti possono parlare anche quando non conoscono i fatti. Se non si fanno plus valenze ma quelle reali non c'è possibilità di portare avanti le squadre. Se la Juve vende Pogba per comprare i Guain penso che il Pescara possa vendere anche la rete delle porti per portare ad andare avanti. Quindi non devo ribattere a nessuno, io ribatto con i fatti sempre. La realtà è che il Pescara è da dieci anni nelle mani di questo gruppo, non ha mai dato problemi di nessun tipo, non ha mai avuto nessun tipo di penalizzazione. In questi anni sono stati fatti degli investimenti importanti che il Pescara in 80 anni di storia non ha mai avuto. Sono passati per Pescara a fior fiori di giocatori che oggi se guardiamo la Serie A tra allenatori e giocatori che sono venuti a pescare e sono passati per Pescara praticamente ce ne sono tantissimi. Di cosa dovrei parlare e cosa dovrei ribattere? Sono i fatti e parlano per noi. Presidente, l'ha detto se non sarà pre-off sarà fallimento. Ribadisce questo concetto perché è un concetto appunto di tale forza? Perché io sono convinto di avere una squadra forte e se questa squadra non dovesse centrare il traguardo dei play-off sarebbe un fallimento. Lo ribadisco veramente con forza perché se io vado ad analizzare le rose della Serie B e analizzo la mia, a meno che non ci addormendiamo o diventiamo una banda di sciagurati, non possiamo che centrare questo obiettivo. L'ultima, Presidente, un eventuale mancato risultato con la Severnitana potrebbe rimettere in discussione Zeman? Ma noi non rimettiamo in discussione nessuno perché, ripeto, in ogni anno della mia gestione abbiamo sempre portato avanti dei progetti. Non vi dimenticate che l'anno in cui abbiamo vinto il campionato a Terni Massimo Oddo si era praticamente dimesso. Dopo quante partite, quante sconfitte, mi sembra 5 o 6, 9 risultati senza vincere. Bisogna credere in quello che hai, nell'organico che hai, in quelle che sono le risorse che tu hai. Io penso, ripeto, ribadisco che questa sia una squadra, un gruppo forte e quindi deve uscire fuori per forza da questa situazione. Grazie a tutti.